Musica Benvenuti al nostro TG Sport, cari amici di Telemolisse. Per il calcio di Serie D, Campobasso e Sernia proiettate al debutto casalingo in campionato. Cesena-Olimpia-Agnonese si giocherà allo stadio Mascagni di Forlì. Sarà il debutto interno dei cesenati nel campionato di quarta serie. In vista del Francavilla a Selvapiana, Mandragora lavora dei cambiamenti in seno alla formazione titolare. La difesa è il reparto che potrebbe essere maggiormente interessato da variazioni, cambiamenti che il tecnico ha in animo di fare. A patto che la squadra approcci con determinazione alla partita. Proprio l'inizio gara di Monte San Giusto è stata tra le principali concause della rovinosa sconfitta che tutti nell'ambiente rosso-blu vogliono decisamente gettarsi alle spalle. Il borsino degli infortunati parla di un Branischi non al top della forma. Potrebbe essere completamente indisponibile per domenica. E di Spinelli che proprio ieri ha dovuto mettere quattro punti all'arcata sopra a Ciliare per uno scontro di gioco avvenuto in allenamento. Ad ogni modo il giocatore potrebbe rientrare fra i convocati di domenica prossima. Mandragora dovrà cercare anche di ragionare a medio periodo. Si giocherà da domenica 23 al 30, tre volte di cui due in casa contro Francavilla e Forlì inframmezzate dalla trasferta di Sant'Arcangelo di Romagna mercoledì 26. Nel corso dei lavori di ieri pomeriggio Antonelli è stato avanzato a centrocampo. Il giocatore romano nasce proprio come centrocampista ma spesso e volentieri è adattato a giocare laterale basso. Tutti sotto esame in vista di un avversario tosto come il Francavilla che ha battuto senza troppi sconti il Pineto a domicilio all'esordio di campionato. Cesena, Olimpia, Agnonese, si giocherà allo stadio Mascanni di Forlì perché il Manuzzi di Cesena in questo periodo è oggetto di ristrutturazioni. Sarà il debutto interno dei cesenati nel campionato di quarta serie. Per l'Agnone di Meco Monaco l'importante sarà mantenere la partita sempre, se possibile, sui binari di un certo equilibrio. Ieri lavoro differenziato per Falco e Antonelli sulla via del recupero De Zai e Cassese. Il tecnico abruzzese prova a puntare l'attenzione dei suoi anche sulle reti al passivo e su come queste vengono incassate. L'Olimpia ha ceduto al Giulianova sugli sviluppi di un calcio di punizione. La stessa cosa accaduta in Coppa contro il Campobasso. I calci da fermo avversari vanificano quanto di buono la squadra riesce a costruire. Continuerà l'indisponibilità per squalifica di Lauria. Quest'ultimo si trascinava uno stop di tre giornate che la società Granata ha riscontrato soltanto nella settimana che ha preceduto l'esordio di campionato. Anche Meco Monaco ragiona in prospettiva dopo la trasferta sul campo del Cesena di Angelini. Granata in casa contro il San Nicolò, poi nuovo viaggio alla volta di Castelfidardo. Mister Silva dell'Isernia fa le prove di formazione anti-San Giustese. Potrebbe essere annunciata qualche lieve variazione rispetto all'undici sconfitto dal Forlì. In difesa si potrebbe registrare il debutto di Kacic ed in attacco potrebbe esserci spazio per Romano e Vitali. Ancora fuori Marino che dovrà scontare la seconda ed ultima giornata di squalifica, entrambe risalenti allo scorso campionato. A proposito delle formazioni juniores, il campo basso sarà in esterno sul campo del Giulianova. L'Olimpia agnionese ospiterà il Monte Giorgio mentre l'Isernia riposerà. Basket femminile di Serie A2, sesta ed ultima uscita pre-campionato per la molisana Magnolia. Ad una settimana esatta dalle soldi ufficiali in campionato tra le muramiche del Palavazzieri contro l'Atena-Roma, le Rosso-Blu domani saranno ospiti della formazione di A1 di Ic Napoli, palla 2 alle 18 sul parquet del Pala Vesuvio. Calcio a 5 di Serie B, domani lasciaminate, attesa a Manfredonia al Pala Scaloria. Per quel che riguarda il match valido per il primo turno della Coppa della divisione, squadre in campo alle 16, gara ad eliminazione diretta. Dopo un mese di allenamenti, domani la Chaminade Campobasso sarà impegnata nella prima uscita ufficiale. I prossimi tre sabato saranno tutti di gare ufficiali, due trasferte consecutive, quella di domani a Manfredonia per la Coppa di divisione, poi sabato 29 a Chiedi per la competizione tricolore di categoria e per finire l'atteso debutto casalingo in campionato, il 6 ottobre, arriverà il Cussancona. A Manfredonia e Rosso-Blu saranno impegnati nel primo turno in eliminazione diretta della Coppa della divisione, chermessa la quale prendono parte squadre di A a 2 B. La Chaminade Campobasso nella Coppa della divisione è la 54esima testa di serie. Se il Rosso-Blu dovessero superare il turno dovranno vedersela con la vincitrice tra Cusomolise e Civitella, quest'ultima squadra abruzzese di serie A. Nella scorsa stagione la squadra di Pizzuto riuscì a raggiungere gli ottavi di finale perdendo contro il Caos Reggio Emilia al Pala Selvapiana. Non solo appuntamenti sul parquet, ma anche fuori dal campo. Venerdì prossimo la lamagna del convitto nazionale Mario Pagano ospiterà la presentazione ufficiale della Chaminade Campobasso, targata 2018-2019, appuntamento alle 17.30. Atletica domani torna il Memorial Musacchio, giunto alla sua 42esima edizione. Il meeting nazionale si appresta a portare in pista oltre 300 cadetti provenienti da 8 regioni, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Puglia, Umbria e naturalmente Molise. Anche quest'anno sarà lo stadio comunale Mario Lancellotta di Isetnia ad ospitare la manifestazione e il ritrovo per le gare fissate al campo per le ore 14 con inizio della manifestazione alle 15.00. Calcio regionale oggi pomeriggio alle 17.00. La FIGC Molise premerà le società che nella passata stagione hanno vinto i campionati e la Coppa Disciplina, i dirigenti, i giocatori, gli allenatori e gli arbitri, che si sono distinti nel corso del campionato e che hanno conseguito importanti traguardi sportivi. Si apre domani con gli anticipi la terza giornata dei tornei d'eccellenza e promozione. Terza giornata dei gironi di andata nei campionati di eccellenza e promozione. La Lega Nazionale di Lettanti ha comunicato le gare di questo weekend e domani l'ACLI Campodipietra incontrerà in anticipo tra le mura amiche il Real Guionesi. Sfida importante per la squadra di mister Carmine Rienzo, che è ancora in cerca di punti dopo la sconfitta della scorsa settimana contro il Boiano. Domani dovrà difendersi contro il Real Guionesi, che invece vanta sei punti pieni. Fischietto della gara sarà l'Isernino Marco Vasile. All'IFE FVP Mattiese è la seconda partita in anticipo e sarà diretta dall'arbitro di fuori regione Claudio Giuseppe Allegretta. La squadra casertana aveva perso contro il Venafro nella seconda giornata e tenterà di riscattarsi domani in una gara casalinga contro i Biancoverdi, che invece la scorsa settimana hanno portato a casa un pareggio contro l'Olimpia Riccia. Ancora domani Sesto Campano-Pietra-Montecorvino. Entrambe le squadre dovranno fare a meno di un giocatore. Salvatore Cagliazzo per i Altomolisani, che sarà sospeso per due giornate, e Massimo Vannella per gli ospiti, sospeso solo per domani. I Biancorossi sono reduci da una sconfitta, ma avranno il favore del campo questa volta. Infatti incontreranno in casa i Pugliesi, che sono ad un punto in classifica. Sarà il Campobassano Marco Aurisano a dirigere il match. Ultima gara di eccellenza in programma domani è Treppini-Matese e Olimpia Riccia. I Biancoverdi, a sei punti in classifica, affronteranno in una gara interna la squadra Fortorina, che dovrà fare a meno di Alessandro Di Criscio. Fischietto della gara sarà Pasqualino Fattore di Isernia. Due le gare in anticipo per il campionato di promozione. La prima è Baranello-Comprensorio Vairano. La squadra di Antonio Niro, vittoriosa la scorsa settimana, avrà il vantaggio del pubblico, ma dovrà fare a meno di venditti contro i casertani del Comprensorio Vairano. A dirigere la partita sarà l'Isernino Corrado Ferrara. Sempre domani il Ripalimosani, a sei punti e prima in classifica, incontrerà, tra le Muramiche, la polisportiva Fortore, che dovrà difendersi e cercare di guadagnare qualche punto contro il giallo-blu. La gara sarà arbitrata dal campobassano Daniele Picciucco. L'area si fa calda nei campi molisani. Il gioco inizia a farsi duro. In queste gare di anticipo alcune squadre saranno alla ricerca di punti e proveranno a riscattare qualche sconfitta. Altre dovranno lottare per conservare la posizione alta in classifica. A parlare sarà sempre e comunque il campo. Fischio d'inizio per tutte le gare alle 15. Il Vasto Girardi domani sarà di scena a Roseto. Marco D'Aguanno, un attaccante del Vasto Girardi, un classe 98. Dal punto di vista personale si parte sotto il migliore auspicio. Questi tre gol, soprattutto per te, sono un'overdose di adrenalina perché magari ti conquisti un posto tra i titolari, forse inamovibile, poi puoi lavorare anche in maniera più tranquilla per il futuro. Sì, anche se non ci sono 11 titolari, non ci sono riserve. Penso che ogni giocatore durante la settimana si conquisti il proprio posto. È chiaro che andare a segno la domenica è sempre un ottimo traguardo personale. Poi sta a ogni giocatore dimostrare di andare in campo o di meritarsi 90 minuti dall'inizio. Tu sei alla seconda stagione qui a Vasto Girardi, se non andiamo errati. Rispetto all'anno scorso, cosa, secondo te, maggiormente nella fattispecie è cambiato? Guarda, ripensare al passato è inutile. Cerchiamo di fare sempre tesoro dei nostri errori. Andiamo in campo facendo quello che il mister ci dice. Cerchiamo di trarre il meglio da tutte le cose che abbiamo sbagliato in passato, sperando che sia la volta buona. Il Rocca Sicura torna a giocare in casa contro il Boiano. Valerio Ranieri, un gigante sulla corsia sinistra, ho detto in telecrona che eri praticamente insuperabile, hai fatto una grande partita su quella corsia dove la Frentana non è riuscita assolutamente ad affondare. Sì, certo, abbiamo fatto una bella partita. Il mister ci ha dato varie indicazioni e noi le abbiamo eseguite. E' stata una partita molto dura su questo campo e niente, l'importante è che abbiamo portato questi tre punti a casa e pensiamo alla prossima. Senti, era importante soprattutto quel pareggio, il mezzo passo falso di domenica scorsa? Sì, vabbè, non è tanto importante il pareggio, però dobbiamo pensare alle prossime partite che verranno. Senti, grossa prestazione, è stata la vostra di concentrazione, non avete mai buttato via il pallone, l'avete sempre ottenuto l'asi, siete stati sempre a bada e questo alla fine è stato il risultato vincente. No, certo, come ho detto prima, il mister ci ha dato varie indicazioni e noi le abbiamo eseguite. Ovviamente su questo campo non era molto facile manovrare il gioco e ci siamo riusciti facilmente. Adesso domenica prossima in casa anche per festeggiare con i vostri tifosi, gara difficile, però ci proverete. Certo, vabbè, noi ci proveremo in tutti i costi, come quella di domenica anche le prossime. La Frentania giocherà al Cannarza alla ricerca del riscatto. Mattia Cacchione, nella Frentania, credo che sia stato il migliore in campo dei tuoi, hai dato veramente l'anima in campo. Dall'inizio alla fine è stato anche il giocatore che insieme a Tarantino ha cercato di più la via del gol, ma era difficile contro questo Roccacicolo, soprattutto dopo il 2-0. Dopo il 2-0 sì, le cose si sono un po' messe male, ma ci abbiamo creduto fino al 93, siamo fin quando è finita la partita, però non credo siamo stati inferiori a loro, anzi, quando rivedranno la partita diranno esattamente l'opposto, perché comunque abbiamo giocato e si è visto. Grande cuore tuo, in una squadra molto rinnovata rispetto all'anno scorso, quindi è una squadra che deve carburare, però ci sono degli elementi validi, siete tantissimi ragazzi interessanti e validi. Sì, siamo tanti ragazzi, soprattutto giovani, perché abbiamo ringiovanito la rosa con alcuni ragazzi più o meno dell'età mia, dai 20 ai 25 anni, quindi sì, dobbiamo ingranare, è solo la prima in casa e la seconda del campionato, quindi c'è strada, è tanta strada, è ancora lunga. Senti, siete tornati un po' normali dopo la vittoria della prima giornata, quella forse vi aveva fatto un po' casare, questa sconfitta vi ridimensiona un'antimo? Sì, ci ridimensiona, ma non ci aveva fatto poi così grande, anche perché anzi ci aveva caricato, eravamo pronti a battere sul campo, però il risultato è stato l'opposto. Domenica derby a Termoli? Sì, prepariamo la partita in settimana e pensiamo subito al Termoli per vincere, per fare il risultato anche lì. Anche quest'anno la ditta Sport e Impianti Gioca Gio mette a disposizione la borsa di studio per studenti ed atleti per l'anno 2017-2018, intitolata ad Angelo De Bernardo. La borsa è rivolta a quei ragazzi che riescono a conciliare buoni risultati scolastici e sportivi. Per il campionato di promozione il Campobasso 1919, domenica farà visita alla Capriatese. Roberto Morena, difensore del Campobasso 1919, avevate voglia di riscatto dopo la prima giornata e lo avete dimostrato sul campo, una gara che vi ha portato sul 4-0 a battere lo spinete. Sì, esatto. Era importante diciamo sbloccarci, sbloccarci un attimino perché domenica scorsa insomma vuoi per tante ragioni, in primis la condizione fisica, il fatto che siamo rimasti in 10 dopo 20 minuti e quindi ci ha portato a un risultato non brillante a Sant'Elia. Noi abbiamo iniziato con ritardo rispetto alle altre, sono appena tre settimane quindi è chiaro che eravamo un po' bloccati con le gambe e non potevamo fare di più. Però abbiamo fatto una grande prestazione, soprattutto a livello mentale, avevamo voglia di vincere questa partita, a tratti abbiamo espresso un buon calcio molto positivo con degli accenni di pressing. Insomma, il 4-0 non c'è nulla da dire, però non ci cugliamo sugli allori perché insomma il campionato è lunghissimo e quindi alla lunga sicuramente potremmo dire la nostra pensando partita dopo partita. Ecco, avete ricostituito un'ossatura anche vecchia negli anni, dicevo in cronaca che tu hai ricomposto la coppia con Vittorio Cialarello di Ero, poi è tornato Alessandro Di Claudio, Silvio Tedeschi in più, anche Donato Vinci Guerra, pure per lui un rientro. Devo dire che comunque a livello di nomi siete un'ottima squadra e credo che con una condizione fisica maggiore nelle prossime settimane potete dire la vostra con tutti. Sì, in realtà manchi solo tu. Sì, abbiamo ricompattato e ricostituito il gruppo storico che è stato il Campobasso 19 per tanti anni. Siamo contenti di ciò e insomma con questo gruppo vogliamo andare avanti senza pressioni, vogliamo giocare partita per partita ottenendo sempre il massimo. Poi vediamo a fine campionato che il risultato siamo in grado di raggiungere. Si terrà domani dalle 20 a San Giovanni in Galdo l'iniziativa Pizza in Piazza per l'ASD San Giovanni in Galdo. La serata che si terrà presso il piazzale dell'edificio scolastico ha l'obiettivo di inaugurare la stagione per la squadra del San Giovanni che militerà nel campionato di seconda categoria, oltre che quello di raccogliere fondi da destinare proprio al sostentamento della stessa società. Bene, è tutto per questa edizione del nostro TG Sport. Buon pomeriggio!